via buongiorno questa è l'anteprima del webinar dedicato all'analisi volumetrica al volume profile insieme al nostro caro Luigi Pangia che saluto buongiorno Luigi buongiorno buongiorno a tutti una breve anticipazione dopo un settembre completamente ribasso di cosa andremo a vedere oggi andiamo a vedere proprio quelle che sono le congestioni degli indici principali future passando poi all'azionario ma effettivamente ci concentreremo su quella zona di volume profile che ci farà capire cosa sta succedendo negli scambi effettivamente così riusciamo ad avere un quadro un po più chiaro e seconda parte dedicata invece ai titoli azionari a vostra scelta io mi chiamo Pietro Froyo sono consulente finanziario di Banco BPM di WeBank vi invito ad iscrivervi al canale di YouTube di WeBank con la pagina Facebook per essere sempre aggiornati sulle nostre dirette ci vediamo tra poco